Grazie Presidente. Oggi in Commissione Lavoro abbiamo approvato una risoluzione che dà ancora speranza ai lavoratori della Kflex, un'azienda che ha ricevuto finanziamento pubblico e che decide di delocalizzare in Polonia. Il nostro pensiero va ai tutti i lavoratori augurandogli anche una serena Pasqua e volevamo mandare un messaggio al Presidente della Kflex ricordando quello che ci dice il Santo Padre e ringrazio anche i lavoratori che mi hanno dato questa maglia che dice che chi toglie il lavoro commette un peccato gravissimo. Ci affianchiamo alle parole del Papa salutando tutti i lavoratori della Kflex e implorando il signor Spinelli di continuare l'attività in Italia e volevo veramente dare tutto il nostro supporto politico a questi ragazzi che si vedono rubare il futuro da parte di prenditori che non prendono in considerazione il valore umano. Grazie.